ciao a tutti e buon sabato bentornati qui su speedy news a tutti grazie per il sostegno per il seguito mi raccomando continuate a seguirci e se ancora non siete iscritti al mio canale fatelo ora sempre con la campanellina così da poter ricevere in tempo reale le notifiche su tutti gli ultimi video e poi come sempre una super pioggia di like il reddito base universale per tutti diventa mondiale con ubi for all di che si tratta vediamo insieme tutti i dettagli ubi for all che sta appunto per universal basic income ossia il reddito universale di base per tutti diventa mondiale è nata ubi for all durante l'iniziativa dei cittadini europei per il reddito di base in che cosa consiste alcune reti e sostenitori europei del reddito di base hanno dato vita a una formula innovativa e singolare si raccolgono attraverso il cofandi crow funding scusate e cioè una raccolta di fondi appunto per lo più tramite internet attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un medesimo interesse o un progetto comune intendono appunto sostenere un'idea innovativa quindi attraverso queste raccolte di fondi si stabilisce un ammontare di soldi che non appena viene raggiunto da vita all'erogazione di un reddito di base universale per una persona aderente all'iniziativa il tutto è partito originariamente dalla germania per cui ogni volta che viene lì raggiunta la cifra di 12 mila euro sempre attraverso il crow funding viene erogato per un anno un reddito di base universale di mille euro e diciamo chi è che può riceverlo coloro che si sono iscritti ufficialmente al sito ufficiale appunto di ubi for all e queste persone quando viene fatta l'estrazione ovviamente partecipano a questa estrazione essendo iscritti e possono vedersi assegnato l'ammontare appunto di denaro sopra citato quindi ad esempio in germania al raggiungimento di ogni 12 mila euro scatta una lotteria e quindi un'estrazione di un vincitore del reddito di base per un anno per mille euro al mese per un totale di 12 mesi questa iniziativa si è estesa all'europa e quindi la formula utilizzata dalla germania si è estesa a livello europeo attraverso appunto ubi for all e ora si fa un ulteriore passo avanti dal contesto europeo si apre addirittura al mondo intero con l'obiettivo di innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica e politica su questo tema del rendito universale per tutti e poi per fare delle vere e proprie sperimentazioni che diano modo di dimostrare poi a coloro che prendono le decisioni in tutto il mondo e quindi alle varie forze politiche di governo l'utilità anche in termini economici e sociali e cioè come questo reddito erogato poi si ripercuote positivamente attorno appunto alle persone a livello diciamo micro e poi macroeconomico del sistema e quindi diciamo che è anche una sorta di esperimento per dimostrare appunto effettivamente quelli che sono i fondamenti principi alle basi alla base di questo reddito universale europeo e di cui appunto i sostenitori cercano in tutti i modi di far intendere e quindi il tutto ripeto adesso diventa mondiale quindi dal contesto europeo si apre al mondo questa iniziativa e quindi da tutto il mondo si può partecipare sia sostenendo il progetto e quindi attraverso un crowfunding cioè la raccolta di fondi quindi in maniera volontaria chi può e vuole può fare delle donazioni se si crede alla causa e si vuole che parta questo tipo di sussidio oppure iscrivendosi appunto sperando che il proprio nome venga estratto a sorte si possa ricevere così un anno di reddito di base in maniera incondizionata l'ammontare a livello europeo è leggermente inferiore sono 800 euro al mese e quindi tutte le persone che hanno da 16 anni in su possono registrarsi per partecipare a queste lotterie di ubi for all ripeto l'importo mensile del reddito di base 800 euro per un anno il progetto finanziato con la raccolta di fondi e il sostegno di coloro appunto che vogliono fare delle donazioni ogni volta che scatta la somma di 9600 euro cioè quindi ogni volta che vengono raggiunti 9600 euro viene indetta una nuova lotteria che erogherà un nuovo reddito di base se volete saperne di più e se volete iscrivervi sperando appunto di poter vincere il reddito di base per un anno potete andare sul sito ufficiale di ubi for all che vi lascio in descrizione per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio e vi aspetto con il prossimo video arrivederci a tutti da barbara e mi raccomando non mancate di iscrivervi di lasciarci un bel like ricordate la campanellina e soprattutto di abbonarvi se potete o fare delle piccole donazioni attraverso i super grazie arrivederci a tutti ci vediamo presto con il prossimo video grazie a tutti